I martiri e gli eroi. Eccoti chi sono i tuoi compatrioti, o buon manzoni. Tra loro ci furono i martiri e gli eroi, ma i più conservano la pancia e i maccheroni, e ognuno provvede bene ai casi suoi. Scusa se tira tristo, perché adesso che sai, nella tomba, non esulterai di certo. Commento. È proprio perché il manzoni lo sapeva da vivo che ha scritto la sua opera di purezza e di vigliaccheria.